ciao a tutte oggi vi propongo un allenamento che abbiamo chiamato risveglio muscolare alla durata all'incirca di un quarto d'ora ed oggi ho il piacere di avere come ospite Ilaria che come potete ben vedere è al terzo trimestre di gravidanza e ci aiuterà a dimostrare la fattibilità di questi esercizi